Il paradiso delle signore, martedì 19 maggio 2020. Vittorio pensa di preparare un filmato promozionale per le nuove collezioni del paradiso delle signore e si organizza di conseguenza. Conti però decide di non consultare sua moglie e questo appare davvero molto strano. Gabriela non trova più un oggetto per lei molto importante e Salvatore si precipita da lei per darle una mano. Il ragazzo coglie sempre l'occasione per ricordare alla sua fidanzata che la ama molto ma la stilista sembra invece più distante. Nicoletta organizza una serata al cinema insieme alle sue colleghe ma Riccardo si intromette e cerca di ottenere un appuntamento da lei. Armando e Agnese si incontrano nel magazzino e parlano dei loro ricordi più brutti della guerra. I due si avvicinano molto e le confessioni reciproche iniziano a diventare sempre più intime. I coniugi Conti si confrontano durante la cena su ciò che hanno visto. Entrambi giungono alla conclusione che Riccardo e Nicoletta si sono baciati e iniziano quindi a pensare a Cesare.